buongiorno sono Urbano della Sane Moreno Vesvaghe Audi di Fuscecchi oggi nel nostro parco usato è arrivata questa Fiat 500 si tratta di un 1.2 benzina con impianto a gpl dell'anno 2011 è la versione sport 150esimo anniversario quindi una vettura un pochino più accessoriata del normale vi farò vedere dopo allora intanto vi faccio vedere queste immagini della carrozzeria esterna dove notiamo che la macchina si presenta molto molto bella qualche piccolezza tipo questo graffettino qui però niente di particolarmente gravoso quindi una macchina molto ancora molto presentata a livello di accessori come vi ho detto abbiamo esternamente intanto i suoi cerchi in lega da 15 pollici e cosa molto bella il tettino aprile come potete vedere ha una cosa tecnica molto importante vi ho detto che la vettura dell'anno 2011 benzina 1200 l'impianto a gpl che è stato montato successivamente è stato messo nel 2014 quindi il livello di collaudo è sempre valido fino al 2024 quindi ancora molto molto da sfruttare importante all'interno dove vediamo la sua tappezzeria dedicata a misto pelle tessuto naturalmente è stata lavata igienizzata non ci sono strappi non ci sono usure non ci sono buchi di sigarette molto importante la signora che aveva la macchina non fumava quindi all'interno è molto bella profumata quindi l'interno come uso sempre dire io è casa nostra quindi deve essere veramente bello poi abbiamo il suo climatizzatore l'autoradio con il cd volante multifunzione ecco qua ha il bluetooth di serie la vettura quindi molto importante anche se suona il cellulare in macchina quindi riusciamo a rispondere e parlare 160 mila chilometri abbiamo la sua presa usb per mettere la chiavetta l'interruttore del gpl e quindi tornando a noi vettura molto molto bella ancora da sfruttare a cosa importante è una macchina che può essere guidata dai neopatentati quindi con l'impianto a gpl è una vettura che nell'uso quotidiano si riesce a risparmiare molto sul carburante allora per finire vetture già disponibile la potete già venire a vedere a provare a chiedere informazioni sullo stato generale della macchina per un ragionamento di pagamento possiamo presentarvi anche dei pagamenti a tassi agevolati pagamenti rateali a tassi agevolati a questo punto vi saluto vi ringrazio per l'attenzione su questa vettura vi possiamo comunque presentare altre vetture usate che abbiamo aziendali di conseguenza vi possiamo servire proprio a 360 gradi vi attendiamo vi saluto e alla prossima vettura usata